Ha sfiorato il trasferimento ad una squadra di Serie B per quattro anni consecutivi e forse, quando ci sperava meno, ha trovato la cadetteria con la maglia del Bari. Simone Iocolano è da venerdì scorso a disposizione di mister Fabio Grosso, capelli ricci alla Marcello, come lo hanno soprannominato a Bassano. Dopo sei stagioni in Veneto e due all'Alessandria, intervallati da uno in Valle d'Aosta, Iocolano approda in B all'età di 28 anni, nel momento migliore della sua carriera. Sono diversi anni che si parla del mio approdo in Serie B, però ogni anno alla fine saltava per un motivo o per un altro. Quest'anno che pensavo meno alla Serie B, è arrivata inaspettata e è stata, inutile dirle, una gioia incredibile. Ama giocare tra le linee, come lui stesso ha affermato, e ha scelto il numero 54, anno di nascita del padre, per le partite di Coppa Italia. E' pronto a dar manforte, anche per un solo minuto, il suo allenatore e i suoi compagni. Il mister mi ha fatto una grande impressione, nonostante sia molto giovane, ha un carisma importante, si vede. Sotto l'aspetto del lavoro posso dirti poco, perché sono arrivato veramente due giorni prima di una partita, quindi la metodologia di lavoro era più prontamente fatta per la partita, erano quasi rifiniture. Quindi ho lavorato ancora poco con la squadra, con il mister, per vedere quello che chiede. Io sinceramente non ho parlato ancora in prima persona col mister, perché comunque c'era una partita di mezzo e si pensava a preparare la partita giustamente. Ancora non ho parlato col mister, penso che comunque mi conosca, mi abbia visto e abbia già le sue idee fatte nei miei confronti. Io sono a sua completa disposizione. Ovunque mi metterà, io darò il massimo per la squadra e cercherò veramente di dare il meglio. Il meglio, sia che vengo messo a disposizione un minuto, 90 minuti, io sarò lì, sono qui apposta per dare il mio contributo.